Domanda seria Mario, perché a me non era una battuta, dico, viene domani il Como, ok, che non so se lo sai ma è la squadra con il proprietario più ricco al mondo, ok, che ha un progetto interessante con Fabregas, con Henry, ha giocatori giovani di qualità come Nico Paz, come Da Cugna, ha preso Sergi Roberto, ha preso Varane, aspetta, no un attimo, viene domani il Como, dici no Mario, ti vogliamo al centro del progetto, ti vogliamo come punta titolare insieme a tutti questi giocatori di qualità perché vediamo un futuro nel Como, e vogliamo ripartire anche da figure come te Ma certo che dici di sì, sta vicino a Milano No, però serio Mario, diresti no? Non lo so, grazie FFG Cioè non era una battuta la mia, era una domanda, era una frase seria Sono sincero, non lo so, non ho una risposta Ok Potrei accettare, non è impossibile, cioè non è una cosa impossibile, certo Ok Vabbè, non faccio sta domanda, però vi dico, ve la volgo un po', so che Mario c'ha tanta voglia di tornare in ità Ve la volgo, che spettacolo che sei, ve la volgo Però ve la faccio, aspetta un attimo Non è vero che ha schifato Venezia, ragazzi, non dite cagate Non ha schifato Venezia Ha detto, tu Mario hai detto che non andresti mai a Venezia? No, no, non l'ho mai detto così Eh, però c'è uno qua che ha scritto Balotelli, viene dalla Svizzera, Turchia qua e viene qua e schifa Venezia Non l'ha mai detto Non l'ha mai detto, però Posso anche dirlo, se vogliamo dirlo a tutti, a Venezia preferite i suoi due attaccanti a me, sinceramente Ah Io posso dirlo, quindi questa è la verità Ci sta, secondo me tu e Gitker avete la stessa qualità Eh sì Hai ragione Dai, cambiamo l'argomento, vaffanculo No, però Devo sempre passare io come coglione, come stronzo, non ci sto No, no, io lo so, lo sai bene che lo so No, però Però, però, in generale No, vabbè, non lo dico, perché sennò si fa polemica Lasciate Dai, dillo, dillo, dillo No, no, no Dillo, dillo, dillo Ormai lo dici Non far nomi In generale, no, in generale a volte ti dicono Quando parli di un calciatore, no, ti dice Cazzo Enoch Madonna Mi muto Tu non riesci a capire che rumore che fai Sembra che stiano scaricando i pellet da un calciatore No, in generale a volte parli con dei dirigenti Anche a volte con degli allenatori E ti dice che quello corre E io gli rispondo Per correre c'è l'atletica C'è il numero qui E si va a correre intorno Bisogna buttare la palla dentro una rete Capito? Però in questo non sono d'accordo con te No, nel senso che non basta correre Enoch Mi va bene, ma tutti corrono Corrono, corrono, corrono Poi bisogna fare golle Enoch chiaramente non è d'accordo Perché l'unica qualità che ha è correre Non è vero Perché il calcio si è evoluto e è così Enoch Devi attaccare E poi devi dire Enoch Ma sono il primo a dirlo Non so se non è il primo a dirlo Però Se tu vai Emi Per me la differenza tra un allenatore Bravo Un dirigente Bravo È Avere dei giocatori E portarli al massimo delle loro qualità Non chiedere a un giocatore Di fare altro A differenza di quello che ha di più forte Quelli fanno la differenza Il punto Enoch Quindi se uno ti viene a dire Quel tipo di giocatore Che è molto tecnico Fa la differenza Mi deve correre Certo Ci deve sacrificare Questo è giusto Ma ti dice Qua bisogna correre Quindi deve correre Devi capire anche il livello Io Enoch Sono il primo a dirti Che nel 2024 Se non si corre Non si può giocare Ma Certo Però Determinate situazioni Hanno bisogno anche di un po' di qualità Capito? Cioè bisogna anche A parte che Che è di più fortale Che è un po' di qualità Che è un po' di qualità Che è un po' di qualità Che è un po' di qualità